Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, ben ritrovati qua nel solito, usuale e consueto disordine della mia libreria. Parleremo in questo video, si parlerà di un aereo, rimasto anche questo allo stadio di prototipo, di uno dei tanti brutti anatroccoli dimenticati, di uno dei tanti progetti pur validi della nostra industria aeronautica che non fu possibile costruire in massa per tutta una serie di motivi, dagli scarsi volumi produttivi di cui era in grado di sviluppare la nostra industria ai problemi, agli intoppi burocratici, alla mancanza di materie prime e propulsori decenti per farli volare. Parliamo in questo caso di un aereo decisamente poco noto, ovvero sia il Breda BA-201. Eccolo qui, eccolo qui, il Breda BA-201, questo è uno dei disegni così. Era un aereo destinato al bombardamento in picchiata. Allora, le origini del Breda BA-201, ah non dimenticavo scusate, la fonte è ancora questo supplemento ad aerei nella storia del dicembre 2007 intitolato Prototipi della regia aeronautica. L'autore degli articoli è Nico Sgarlato, noto giornalista, un grande esperto della storia dei nostri velivoli, dei velivoli della regia aeronautica. Allora, il Breda 201 nacque in risposta ad una, l'idea ebbe origine da una specifica ministeriale del 29 agosto 1939 per un tuffatore, ovvero sia un bombardiere in picchiata. La Breda presentò il suo modello 201. Allora, il 201 fortunatamente rappresentava una rottura non da poco con l'infelice passato. Vedi il Breda BA-65 oppure, peggio che peggio che peggio, il Breda BA-88 lince. O per non tacere ancora dell'abominevole SM-85, la banana volante. Vabbè, vabbè, vabbè. Dicevo, il Breda 201, ci dice Sgarlato, rappresentava una rottura con le poco felici realizzazioni del passato nel campo degli aerei d'attacco. E fu creato da un gruppo di lavoro formato dagli ingegneri Vittorio Calderini, responsabile dei calcoli strutturali, e dell'ingegner Mario Pittoni, che aveva curato l'impostazione generale e l'aerodinamica. Allora, la Breda, memore anche di certi fiaschi fatti, tipo per esempio l'AP1, ma lasciamo stare, profuse in questo programma energie senza precedenti. Il Breda 201 è forse l'unico aereo italiano dell'epoca del quale siano stati costruiti simulacri in grandezza naturale, particolarmente fedeli, tanto da poter essere scambiati per aerei reali. Allora, il progetto originale prevedeva un motore Isotta Fraschini Asso da 960 CV o il mefitico Isotta Fraschini Z 24 cilindri AX, ma alla fine si optò per il classico Daimler-Benz DB-601 da 1175 CV, quello che armava i caccia, insomma i Reggiani 2001 e i Macchi 202. Allora, furono fatte molte, molte modifiche al Breda 201 e fu realizzato, come dire, un nuovo, un altro simulacro, furono realizzati diversi simulacri che differivano fra di loro per la posizione del motore più o meno centrale, per la posizione dell'abitacolo più o meno avanzato, per varie piccole varianti strutturali che, insomma, come dire, furono studiate con estrema cura dalla Breda. Forse la lezione del lincea qualcosa era servita. Vabbè, vabbè, vabbè. Allora, il primo volo del Breda 201 che, come vedete, a livello architettonico, il Breda 201, come vedete, a livello architettonico, a livello strutturale, ricordava moltissimo uno Stucca, ricordava moltissimo uno Stucca decisamente più filante, decisamente più pulito aerodinamicamente, con un carrello retrattile e un abitacolo monoposto. Ecco, la struttura, l'idea viene chiaramente ripresa dallo Stucca, ma viene decisamente migliorata. C'è un aereo più filante, un aereo più prestante, più leggero, sicuramente meno goffo e meno ingombrante rispetto all'originale Junkers 87. Ok? Allora, dicevo, 3 luglio 1941, primo volo del Breda 201 con il collaudatore Luigi Acerbi. L'8 ottobre il prototipo fu trasferito al primo centro sperimentale di Roma Guidonia per la valutazione da parte della regia aeronautica, con esito estremamente positivo. Il primo novembre il Breda 201 fu presentato al nucleo addestramento tuffatori di Lonate Pozzolo Avarese. Riportato a Guidonia nella primavera 1942, il velivolo rimase distrutto in un incidente. Succede, capita purtroppo. Però cosa succede? Succede che nonostante le eccellenti qualità di volo, perché i collaudatori ne erano assolutamente entusiasti, lo definivano un aereo che volava molto bene, dalle ottime prestazioni, molto superiore a tutti i cacciabombardieri in servizio nella regia aeronautica e ovviamente anche superiore all'originale, superiore anche allo Stuca, secondo quello che dicevano i collaudatori. Dicevo, nonostante queste le ottime caratteristiche di volo, il programma non fu portato, la regia aeronautica non fu mai molto convinta di questo aereo, perché c'erano già in servizio gli Stuca acquistati dalla Germania e si prevedeva di continuare a rifornirsi di Stuca già pronti per il bombardamento in picchiata dall'aleato tedesco. Acerbi, il progettista che era impegnato anche su altri modelli, ricordiamoci che la Breda produceva su licenza anche i Caccia Macchi 202, ricordiamoci anche questo. Dicevo, il 28 marzo 1942 volò il secondo prototipo MM452, che fu assegnato provvisoriamente per un collaudo operativo al 97esimo gruppo bombardamento a tuffo a Gela, a Caltanissetta, per prendere parte alle operazioni della cosiddetta battaglia di mezzo giugno. Ma il Breda 201, eccolo qui di nuovo, non poteva partecipare allo scontro aeronavale per un semplice motivo, non c'erano gli adattatori per le bombe, non c'erano, mancavano gli adattatori per le bombe, mancavano gli attacchi per le bombe. Eh, 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 che vedevo da dire? Succede, capita, siamo in Italia, parliamone, va bene, un momento, ricordiamoci una cosa però, simili cavolate, tipo collaudi operativi, collaudi eccetera eccetera, dove non si trova qualche cosa, non accadero soltanto agli italiani, anche gli inglesi, anche i tedeschi, anche gli americani fecero cose simili, però insomma, che vi devo dire? Amara consolazione, malcomune mezzo gaudio. Dicevo, mancavano gli adattatori per le bombe, non c'era disponibilità degli adattatori per le bombe per il Breda 201, quindi il Breda 201 non poté partecipare alla battaglia di mezzo giugno. Allora, in pratica, quando già si prevedeva di costruirne una versione biposto con mitraliere posteriore, il 26 giugno 1942 il Breda 201 fu abbandonato, perché? Uno, erano già disponibili in gran quantità, a costi più o meno simili, gli Stuka, Juncker 77, che vabbè, anche se superati, erano disponibili, erano pronti, c'erano, i tedeschi ce li fornivano senza problemi e si decise di rivolgersi a un modello già noto ai nostri aviatori, ovvero sia lo Juncker 77, lo Stuka, il Picchiatello. E inoltre c'era anche un altro motivo per cui si decise di non costruire più il Breda 201, sia mono che biposto. Il motore, il motore Daimler-Benz. I motori Daimler-Benz 601, sia quelli forniti dei tedeschi, sia quelli prodotti su licenza in Italia, erano preziosi, erano preziosi perché ce n'erano pochi ed erano essenzialmente, e quei pochi andavano destinati soprattutto ai nostri caccia. Era il motore che era montato sul Regiane 2001 e che era montato sul Macchi 202 Folgore, che erano decisamente più importanti al momento rispetto al Breda 201. In pratica non c'erano sufficienti motori per tutti. La nostra industria non riusciva a costruire su licenza i motori Daimler-Benz in numero sufficiente per le necessità della guerra. Ok? E i tedeschi cei fornivano i loro propulsori decisamente col contagocce. In pratica il Breda 201 era un ottimo aereo, poteva diventare, era in potenza, un'eccellente bombardiera impicchiata dalle buonissime prestazioni, ma che fu ammazzato in culla dalle scarse risorse disponibili per la sua costruzione. La Breda era impegnata nella produzione su licenza dei Macchi 202, che erano molto, erano vitali per la nostra regia aeronautica. Ok? I motori non erano disponibili anche per il Breda 201 e quindi ci si rivolse agli Junkers 87, agli Stuka forniti dalla Germania. Le prestazioni erano decisamente molto interessanti perché volava ad una velocità massima di 460 km a 4.000 metri. Saliva a 4.000 metri in 7 minuti, aveva un raggio d'azione di 540 km e un'autonomia di 1.200 km. Era armato con le solite, 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 usuali due Breda Safat da 12-7, però in questo caso montate sulle ali, proprio gli faceva schifo ai nostri progettisti montare un paio di armi di più per l'attacco al suolo. Evidentemente, ma che vi devo da dire? Eravamo fissati con quelle due benedette mitragliatrici. Paura dello spreco di munizioni, anche paura dello spreco di munizioni. E, che vi devo dire? E diciamo, le necessità contingenti della guerra portarono alla, come dire, alla fine portarono alla rinuncia, alla costruzione di questo aereo che in potenza era estremamente interessante, era estremamente promettente. Ripeto, i collaudatori ne erano a dir poco entusiasti e le caratteristiche di volo erano veramente, veramente buone. Solo che il problema era questo, il solito. Impossibilità fisica di costruirlo, disponibilità di buone quantità di Juncker 77 Stucca che costavano di meno ed erano già pronti e soprattutto la preziosità dei motori Daimler-Benz DB601 che erano destinati ad aerei ben più importanti. Tutto qua. Quindi, tutto qui. La storia del Breda BA201 è tutta qua. Ripeto, poteva essere un eccellente aereo da attacco al suolo, poteva essere un eccellente bombardiere impicchiata, ma ahimè, come in tanti altri casi non se ne fece nulla. In certi casi, vedi il Breda BA88, vedi l'OSM 85 o l'OSM 86, vedi altri fallimentari progetti tipo il Fiat Cansa FC20, come dire, lì un perché c'era sul fallimento di questi aerei. Ma il Breda 201 era un buon aereo, era un eccellente bombardiere impicchiata, era un aereo dalle prestazioni molto interessanti, era un aereo che ai nostri reparti di attacco al suolo, ai nostri bombardieri, ai nostri tuffatori, sarebbe quantomeno servito, ma ahimè, non ci si poteva fare nulla. Purtroppo le esigenze della guerra avevano altre priorità. Tutto qua. Quindi, cari signori, come sempre, aspetto le vostre considerazioni, aspetto le vostre... aspetto come sempre i vostri commenti a proposito di questo aereo. Breda BA201, lo sfortunato brutto anatroccolo del bombardamento a tuffo italiano. Peccato. Sarebbe stato bello vederlo volare, ma ahimè, al di là dei due prototipi costruiti non si fece assolutamente nulla. Tutto qui. Quindi, cari signori, come sempre, vi ringrazio e arrivederci al mio prossimo video. Ciao!